Quindi sarà assessore allo sport, perché oggi sui giornali si leggeva che sarebbe stata una sua rinuncia. Come va? Benissimo. Benissimo. Voi? Primo giorno in Campidoglio. C'è il sole, ha visto. Primo giorno in Campidoglio. Vedremo. Come un bambino. Come un bambino. Insomma, è un impegno notevole. Che sta per prendere un carico, anche molto importante. Buona giornata. La prima cosa che farà l'assessore allo sport. Ci guarda un attimo, lo cicero. Lo cicero. I giardini del Campidoglio. Io perché mi sono messa a sound alle lisci che mi stavo uccidando? I giardini del Campidoglio. Perché non parte con la simpatia. I sudi farà ilcampo del Campidoglio. Capito, la prima cosa che face. Grazie.